Allora, qua siamo a Venezia ovviamente, andiamo verso dove? Allora andiamo verso Napoli, Roma o l'Italia, pasta e fagioli, buona, la caffettina, e poi partiamo, andiamo, no, 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 aspetta, Napoleone non si lascia però, allora partiamo, mettiamo sul cembalo, un po' più alto, sì, perché poi non si sente, allora qui lo studio dell'artista, forza, allora sto lavorando sul trittico, allora la Ieva in foresta ed eccoci qua, eh, eh, è una figata, meraviglia, non è finito però, eh, allora vi racconto, è tutto un due, e poi è duple fax, allora se non vi stanca, vi piace o non vi stanca, di questo quadro, andiamo dall'altra parte, no? Non io, lui, eh, urlo adesso, quindi sporco il puto adesso, guarda c'è anche un buco, eh, 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 si brucia, eh, e quindi li chiamo il Mirzam però, il Marco Mirz, Marco, Marco Mirzo, professore mitico delle superiori, della scuola d'arte di Monza, eh, scherziamo, beh, allora vi saluto e bonjourni e mangiamo, eh!